Luigi Deramo, coordinatore regionale della destra, capolista della Vista Prospettiva 2022, prima di tuffarci su queste elezioni amministrative fare un piccolo passo indietro per capire cosa è accaduto con le elezioni primarie a cui lei è stato alla fine l'unico candidato che poi sono state annullate e poi per passare alla successiva decisione di sostenere Giorgio di Matteo, candidato sindaco? In sostanza possiamo dire che questa è stata una delle storie più brutte, più buie della politica aquilana e della politica del centrodestra aquilano. C'era questo accordo di coalizione ratificato anche dal cosiddetto livello romano per svolgere le primarie del centrodestra nella città dell'Aquila. Io ovviamente rappresentato e rappresentante di un partito ho posto la mia candidatura alle elezioni primarie e il PDL, in particolar modo l'architetto Properzi, ha ritenuto di fare un passo indietro tradendo anche una posizione assunta di fronte alla città e di fronte agli alleati del centrodestra non partecipando alle primarie, facendo in modo che queste saltassero e quindi impedendo ai cittadini aquilani di potersi esprimere nella scelta di quello che ritenevano il miglior candidato possibile. Poi abbiamo visto che Properzi si è fatto imporre come con la sua candidatura dal cosiddetto livello romano e chiaramente noi non potevamo assolutamente sostenere una persona che è un partito che nell'arco di pochissime ore prima ha assunto un impegno pubblico per poi tradirlo nei successivi giorni. Quindi chiaramente chi è capace di fare questo in una situazione di campagna elettorale è evidente che sarebbe capace di farlo anche al governo della città e quindi non ritenendo assolutamente serie da un punto di vista politico queste persone abbiamo ritenuto di fare un percorso diverso e quindi di convergere dopo aver avuto un confronto sui programmi, sulla impostazione di quella che dovrà essere la futura azione amministrativa nel Comune dell'Aquila abbiamo appunto ritenuto opportuno condividere e appoggiare la candidatura di Giorgio De Matteis. La tentazione di candidarsi a sindaco comunque c'è stata? Ma è stata sicuramente una strada che abbiamo preso in considerazione, poi abbiamo riflettuto e abbiamo ritenuto opportuno o ritenuto opportuno di fare un atto di grande responsabilità nei confronti della città. La nona o la decima candidatura a sindaco non avrebbe avuto senso, avrebbe di fatto indebolito la coalizione di Giorgio De Matteis e avrebbe avvantaggiato la candidatura di Massimo Cialente. Quindi con un atto di responsabilità e dopo aver ascoltato i nostri elettori, i nostri sostenitori, gli amici di sempre, tutti insieme abbiamo deciso di condividere questa nuova avventura con Giorgio De Matteis. Ovviamente mantenendo la nostra identità che in questa elezione si esplicita attraverso un simbolo civico. Parliamo di questa lista, come è composta e quali sono i suoi punti di forza? Prospettiva 2022 è un contenitore che va anche oltre la destra di Francesco Storace, accoglie anche persone che provengono da altre esperienze politiche, chiaramente riconducibili all'ambiente culturale del centro-destra. È una lista che rappresenta un po' tutti quanti gli spaccati sociali e professionali della città dell'Aquila, ma è soprattutto una lista prevalentemente composta da persone che per la prima volta si affacciano alla politica. Abbiamo tantissimi giovani, questo proprio per garantire un ricambio generazionale, ma abbiamo anche persone mature che si sono messe a disposizione della città. Credo che sia una delle migliori espressioni che oggi la politica offre all'elettorato aquilano. Io sono convinto che Prospettiva 2022 sarà la sorpresa di queste elezioni comunali. Ultima cosa, quale sarà il competitor più aggressivo con il quale Giorgio De Matteis dovrà fare i conti tra gli altri sette in lista? Io credo che ormai tutti quanti abbiano compreso perfettamente bene che la battaglia elettorale è tra Giorgio De Matteis e Massimo Cialente con grandissime chance e possibilità che Giorgio De Matteis sia il nuovo sindaco della città dell'Aquila. Noi all'interno di questa coalizione abbiamo portato anche tre punti programmatici che sono stati il cavallo di battaglia nei mesi precedenti. Innanzitutto il rifacimento completo del cosiddetto piano di ricostruzione perché quello licenziato dall'amministrazione comunale Cialente è ormai un dato di fatto, lo hanno detto anche le organizzazioni di categoria e gli ordini e le professioni è un piano di ricostruzione finto, vuoto e quindi chiaramente per garantire una ricostruzione veloce e certa va completamente rimpostato. Il secondo punto è quello della sicurezza. Oggi l'Aquila vive una condizione di forte stress e di forte crisi sotto questo punto di vista. Ormai i casi di furti, rapine, aggressioni sono notizie che leggiamo quotidianamente su tutti gli organi di informazione e credo che vada fatta una seria azione concertata con Questura, con Prefettura, con il Ministero degli Interni per garantire che il capoluogo di Regione torni ad essere un'isola felice. Terzo punto, l'occupazione per i nostri giovani. L'Aquila ha necessità di riacquistare una strategia, una nuova visione per questa città, soprattutto una nuova vocazione. Noi dobbiamo stabilire se l'Aquila deve essere la città della cultura, se deve essere la città del turismo, se deve essere la città dell'artigianato di grande qualità. Io ritengo che tutti e tre questi elementi siano alla base di un ragionamento e soprattutto di uno sviluppo economico ed occupazionale. Quindi su questi tre punti c'è stata massima sintonia con Giorgio De Matteis ed è l'apporto, il nostro contributo che portiamo alla coalizione. Grazie a Luigi D'Aramo.